Buon pomeriggio a tutti. Se c'è una cosa sgradevole del giorno dopo le elezioni è che sembra sempre che abbiano vinto tutti. Così evidentemente non è, per cui occorre anche affrontare la realtà con onestà intellettuale e anche con lucidità. Partiamo dal referendum. Io ero molto scetti come si fa della possibilità di portare a casa queste riforme da parte del Movimento. Considerate che parlai con Riccardo Fraccaro e gli espressi lo scetticismo, gli dissi Riccardo non ce la faremo mai, è impossibile, i parlamentari degli altri partiti mai voteranno per un taglio del genere. Lui invece era molto ottimista, aveva ragione lui e gli faccio anche i complimenti perché poi Riccardo è stato il principale artificio di queste riforme. Oltretutto è un successo anche del gruppo parlamentare, del Movimento e del Movimento 5 Stelle al Governo che ha azzeccato per strategia e congiuntura le scelte e sostanzialmente ha costretto parlamentari che non volevano minimamente tagliare loro stessi a votare sì in Parlamento. Tuttavia il 70% invece dei voti del referendum non possono essere considerati solo un successo del Movimento 5 Stelle. Occhio, io ci andrei molto cauto perché rischiamo di commettere un errore. Allora, innanzitutto è evidente che il 70% che votano sì è un bellissimo risultato, tra l'altro non è vero che gli italiani siano così propensi alle riforme costituzionali, a cambiare la Costituzione. Se ci pensate, gli ultimi due referendum costituzionali, quello del 2006 promosso dal centro-destra e quello del 2016 promosso da Renzi, sono stati bocciati dagli italiani, per cui il fatto che il 70% ieri e l'altro ieri abbia votato sì significa che il quesito era giusto, era comprensibile, che gli italiani hanno apprezzato il fatto che si intervenisse in maniera precisa e puntuale sulla Costituzione senza proporre proposti in un calderone e così via. Ma è allo stesso tempo vero che tante persone che hanno votato sì magari non apprezzano il Movimento, anzi lo detestano, hanno votato sì persone che volevano un po' di giustizia sociale dopo anni di vestazioni, chi pensava che così si risparmiasse dei denari, chi come me per esempio ha ritenuto che soprattutto attraverso questa riforma costituzionale si aprirà inevitabilmente al cambio della legge elettorale, che capisco che abbiamo problemi molto più impellenti, soprattutto in questa fase, e parlare di legge elettorale fa venire le bolle. Ma allo stesso tempo è vero che fino a che ci sarà un Parlamento sostanzialmente nominato dai segretari di partito e non scelto attraverso una preferenza dei cittadini, sarà un Parlamento che risponderà sempre di più alle logiche appunto dei segretari che spesso e volentieri favoriscono la fedeltà e colpiscono l'indipendenza intellettuale. Ma un eccesso di esultanza penso che sia fuorviante e non sia giusto e per questo veniamo ai risultati del Movimento 5 Stelle. Io credo sia stata la più grande sconfitta della storia del Movimento 5 Stelle. Consideratevi, do qualche dato, che in Campania passiamo dal 17% al 10%. In Campania due anni fa il Movimento sfiorò il 50% alle elezioni politiche, in Campania abbiamo eletto decine di parlamentari, è Campano il Ministro degli Esteri, è Campano il Presidente della Camera, è Campano il Ministro dell'Ambiente, è Campano il Ministro dello Sport e abbiamo preso il 10%. In Puglia, dove oltretutto avevamo due candidati facilmente colpibili sulla questione del voto clientelare e dove abbiamo adottato una linea diversa, siamo passati dal 17% al 10%, in Campania ci sono andato io, abbiamo straperso. Oltretutto non c'è stato neanche il voto di giunto, sapete c'è stata qualche polemica rispetto a questo perché Antonella ha preso l'11,1% e il Movimento ha preso meno. In Liguria siamo andati in coalizione con il PD e il Movimento passa dal 22,3% al 7,8%. Nelle Marche al contrario andiamo da soli e passiamo dal 19% al 7%. In Veneto c'è un enorme debacle, il Veneto è la regione poi delle piccole e medie imprese che spesso e volentieri hanno sostenuto le proposte del Movimento e si passa dal 10,4 al 2,7 e passiamo da 5 consiglieri regionali a 0. Nei prossimi 5 anni il Movimento non potrà neanche fare opposizione all'interno del Consiglio regionale perché non abbiamo consiglieri. Io credo che in questo momento parlare di alleanze sia del tutto sbagliato, sia per coloro che sono profondamente contrari alle alleanze e sia per coloro che sono estremamente favorevoli alle alleanze. Non è il tema delle alleanze, il tema dell'ordine del giorno e della crisi del Movimento 5 Stelle. Un altro dato lo dimostra qualche due anni fa abbiamo eletto in Sardegna in un collegio una senatrice che ha preso il 41% dei voti, eletta solo con i voti del Movimento 5 Stelle, il Movimento ha preso il 41%, questa senatrice purtroppo è morta per cui si è ritornati al voto e questo seggio l'ha vinto il centrodestra prendendo il 40% dei voti e proprio in questo collegio il Movimento si è presentato insieme al PD e ha preso il 28%. Due anni fa da solo ha preso il 41%, ieri e l'altro ieri insieme al PD ha preso il 28%, per cui non è il tema delle alleanze. Ho letto delle interviste di alcuni ministri rilanciare il problema alle alleanze, dovevamo fare delle cose. Non è questo il tema, il tema principale è la crisi identitaria del Movimento 5 Stelle, è innegabile e non si tratta di fare i disfattisti, dobbiamo dire le cose come stanno. Il sogno al quale hanno creduto tante persone di partecipazione e cambiamento oggi è in crisi, tantissime persone non ci credono più, per questo poi non vengono i voti che sono una diretta conseguenza. Se manca la comunità, manca l'identità, mancano le ragioni per le quali votare il Movimento, perché in questo momento tante persone non sanno perché votare il Movimento 5 Stelle, evidentemente poi i voti non arrivano e quindi il Movimento via via si indebolisce sempre di più e a me questo preoccupa, l'indebolimento del Movimento 5 Stelle e non c'entra niente il Governo che andrà avanti due anni e mezzo, la legislatura che andrà avanti due anni e mezzo. Quando si rivoterà tra due anni e mezzo, con queste percentuali, con questo indebolimento del Movimento, evidentemente sarà più facile la restaurazione, che è quello che a me più di tutti spaventa, perché è vero che il Movimento ha commesso degli errori e determinate promesse non le ha realizzate. Allo stesso tempo è altrettanto vero che tante cose buone le abbiamo fatte e io ho paura che tutte le cose buone che abbiamo fatto, che hanno indispettito il sistema di potere, verranno cancellate in 4 e 4,8 con un Movimento 5 Stelle con percentuali così basse e quindi magari i futuri portavoce del Movimento in Parlamento assisteranno quasi muti allo smantellamento di tutta una serie di successi che sono stati portati a casa in questi ultimi anni con il Movimento 5 Stelle al Governo e la restaurazione non avrà problemi appunto a inserirsi, a cancellare quel che di buono abbiamo fatto. Questo è quanto. Una crisi identitaria non è che si risolve cambiando tizio con Caio, facendo ritornare Sempronio, non è questione di nomi, è questione di identità, di comunità. Abbiamo perso tantissimi attivisti. Guardate, oltre ai voti, perdere gli attivisti, cioè le persone che hanno combattuto per il Movimento, lo hanno difeso nei posti di lavoro, nei bar, nei mercati, nelle piazze, sui social, cercando di fare contro informazione, comunicando i successi, le proposte. Se se ne vanno loro non resta niente. L'indebolimento continuativo del Movimento 5 Stelle farà sì che un domani, neanche le alleanze, non tiene nulla, un domani saranno gli altri a non volerti più perché rappresenterai una lista molto molto debole e saranno gli altri a dirti che non ci interessa agliarci con voi. Il problema, veramente, non parliamo oggi di alleanze, nemmeno di cambio tra capo politico e governance, di organo collegiale. Non è questo il punto. Il punto oggi è l'identità e l'identità si ricostruisce esclusivamente attraverso degli stati generali. Un momento democratico, partecipato, in cui possono esprimersi tutti i territori, gli attivisti, anche quelli che se ne sono andati via, soprattutto loro e i consiglieri comunali che hanno spesso subito delle scelte dall'alto che non sono state premiate, tutti si devono esprimere per poter tirare fuori una nuova agenda per uscire dal buio, anche perché il mondo post-covid sarà del tutto diverso, e attraverso questa agenda ricostruire una comunità. Una comunità chiaramente che ha dei perimetri valoriali, dei valori all'interno del quale una persona si trova, con delle proposte innovative, delle soluzioni nuove. Io credo che lo spazio anche politico ci sia, è lo spazio del rafforzamento dello stato sociale, del rafforzamento di alcuni diritti che non devono essere considerati merci, allo stesso tempo il rafforzamento di tutto ciò che è piccolo, piccola e media impresa, piccola agricoltura, piccole opere, perché le grandi opere abbiamo visto quello che hanno portato, e questo è un paese che necessita di migliaia e migliaia di piccole opere di manutenzione per far sì che non ci scappi il morto quando piove. Questo deve essere il nostro focus, ma sono tutte cose, magari qualcuno avrà delle idee diverse che si dovranno affrontare agli Stati Generali. Non è neanche il problema della leadership forte, come qualcuno ha detto, la leadership forte c'è stata e anche nel periodo della leadership forte il Movimento 5 Stelle ha dimezzato i voti, prendendo una sconfitta epocale anche alle ultime elezioni europee. Questi sono dati di fatto e non si tratta di essere disfattisti, o ci diciamo le cose oppure non vogliamo bene al Movimento 5 Stelle. Abbiamo perso dovunque, abbiamo perso dove sono andato io, dove non sono andato io, dove abbiamo fatti moderati, abbiamo fatti duri e puri, abbiamo perso in coalizione, abbiamo perso da soli, abbiamo perso dovunque. Per cui evidentemente esiste un problema, che il problema è di identità, di comunità, di proposte e di far capire ai cittadini quello che vogliamo fare. Non si può neanche incolpare i cittadini che un tempo votavano e poi ora non votano. Perché votano? Prima votavano noi, quindi il problema non sono loro che un tempo ci hanno dato fiducia, il problema è il perché non danno più fiducia al Movimento 5 Stelle, perché non partecipano più, perché non si inseriscono più in questo progetto, perché non lo sentono più tale, non pensano più che il sogno del cambiamento possa concretizzarsi. Al di là di tante cose buone che abbiamo fatto, però il fatto che non venga riconosciuto è un problema. Non si può, ripeto, nascondere la polvere sotto il tappeto. L'unico modo per farlo sono degli stati generali, senza blitz, senza fare cambiamenti di organi collegiali adesso. Il chi viene dopo può, ripeto, mettere De Gaulle a capo del Movimento 5 Stelle e nessuno lo è, ma senza identità, senza delle proposte innovative, i voti non li prendi. Insomma, per me queste sono le mie idee, per cui ribadisco che l'unica cosa che occorre fare è organizzare gli stati generali il prima possibile, ben organizzati, ben partecipati, democratici, in cui tutti possano esprimersi e che esca fuori una nuova agenda per uscire dal buio, da qui ai prossimi dieci anni, delle nuove proposte, lo spazio c'è anche, anche lo spazio della tutela dell'ambiente. Oggi combattere per un ambiente migliore significa difendere la patria. Sono tutte proposte che possiamo fare e sulle quali ricostruire il Movimento 5 Stelle perché è ancora necessario, perché se sparisse il Movimento 5 Stelle, poi, ripeto, la ristorazione sarebbe molto, molto, molto rapida e perderemmo anche una serie di conquiste. Penso al decreto dignità, penso alle leggenti corruzione, al Trojan che viene utilizzato e che smaschera dei rati di corruzione, al reddito di cittadinanza tanto criticato, ma strautile soprattutto in questa fase di crisi economica e nei prossimi mesi saranno ancora peggiori perché prima o poi le imprese vedranno ancora più difficoltà di quelle che hanno adesso. Questi sono i miei pensieri, spero di essere stato chiaro e buon pomeriggio a tutti.